ok guarda qua rapporto della missione come ho detto il programma spectra è top secret solo i piani alti dell'azienda ne sono al corrente perché ti preoccupi spectra potrebbe essere qualsiasi cosa diciamo che qualcuno mi ha fatto una soffiata ok come vuoi comunque torniamo al sito di produzione usando le mie abilità ai tuoi poteri ci infiltriamo nell'ufficio del capo di produzione cioè becca che starà ripulendo il caos che hai lasciato al controllo qualità entriamo nel tuo computer rubiamo il file su spettra e usciamo ok ok non stavo ascoltando ma sembra facile ottimo mi sincronizzerò con ti tramite 808 magari salta fuori qualche nuovo trucchetto cosa tu non vieni in una missione così pericolosa non sono stupida lascio fare a te ok un attimo quindi vuoi dire eccomi baby con chi stai parlando dai raggiungi l'ufficio di recca guarda è lassù è parecchio in alto dovrai attraversare la produzione ma ti farò da guida cerca di non farti notare forza 808 divertiamoci un po come hai fatto a prendere una bibita da quella cosa se colpisci la macchinetta nel punto giusto non ti frega il credito fidati ormai lo so bene c'è Kale e quella è come si chiama l'ex amministratrice della vendelei roxanne vendelei davvero ciao ha costruito l'azienda da zero studia un po non c'è bisogno di urlare almeno riconosci i suoi meriti e e e Grazie a tutti. Beh, addio a non farsi scoprire. Dai, ora ci divertiremo di più. E finché Recca non sc... Attenzione! Parla Recca! Quel difetto è stato avvistato nel mio edificio. In parte spero che nessuno di voi idioti lo prenda. Così posso farla fette personalmente. Sembra interessante. Avevi detto che non sarebbe stata qui. Avevi detto che ti saresti divertita di più. Grazie a tutti. Abbiamo un bel problema. Sai, spiace per il tuo orgoglio, ma non puoi fare quel salto. Hai un'idea? 808 mi sta dando informazioni sul tuo braccio. È magnetico, vero? Dovresti riuscire ad agganciarti a quel punto. Wow! Fantastico! Attenzione, sembra che dovremmo cercare un certo... No, combattente musicale intruso. Ehi, Chai! Usa il magnete sui nemici per avvicinarlo. No, combattente musicale intruso. No, combattente musicale intruso. No, combattente musicale. Usa il magnete sui nemici per avvicinarlo. Ehi, Chai! Ehi, Chai! Fuori dai piedi, è mio. Lo vedremo, amico. Il vento è sul piano principale, prendetelo! Chai, cerca una strada alternativa, no? Beh, questa mi sembra una strada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gatta in arrivo, andiamo! Gatta in arrivo, andiamo! Gatta in arrivo, andiamo! Gatta in arrivo, andiamo! Grazie a tutti Grazie a tutti Mi sono infiltrata in quei terminali e così posso mandarti dei potenziamenti da qui Perfetto Allora Peppermint Questo Spectrum Che roba è? Spectra! L'informatore mi ha inviato codici che fanno pensare a un'eam Sembra nascosta in tutte le parti robotiche del progetto Armstrong E come mai ti preoccupa così tanto? La mia fonte ha detto che la Vendeley non ha mai tenuto un progetto così nascosto Questa storia mi puzza Cosa? Ti stai basando su un sospetto letto su internet Mi fido delle mie fonte Così sembri ancora più sospetta della Vendeley Cioè smetti Sai cosa? Non mi so In ogni caso io me ne vado E quindi ho insegnato io a Ricca tutto ciò che sa sulla produzione Le tue storie sono solo bugie Tu che ne sai? Pulisci solo i pavimenti Ehi! Sto lavorando! Altre bugie! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Oh, sembra divertente Oh, sembra divertente Oh, sembra divertente Nonostante sia a occhio, ricordo di non camminare sotto le presse quando sono in funzione. È incredibile che debba dirlo davvero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si vede proprio che Mimosa odia Corsica. Già, ha fatto i complimenti a tutti i reparti tranne alla sicurezza nella sua ultima email. È uno schiaffo in faccia all'azienda. Ecco di qui, teppistello. Non riuscirai. Sei bloccato e presto verrai schiacciato. E' uno schiaffo in faccia. E' uno schiaffo in faccia. E' uno schiaffo in faccia. 8-0-8. Ci sono i cattivi. Power core! E' uno schiaffo in faccia. E uno schiaffo in faccia. E' uno schiaffo. Sì, sì! Sono bloccato qua giù. Peppermint, è qui che entri in scena? Un attimo, Chai. Vedi la porta? Potresti riuscire a oltrepassare la sicurezza, ma è una strada difficile. Molte scale. Sai una cosa? Mi piace il pericolo. È più divertente. Chai, non sai neanche dove portano quel binario. Tranquilla, me la capirò. Ah sì? Beh, guarda avanti. Oh, shit. Woohoo! 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 Oh, oh, oh! Ja-ha! Eh, Satterby! Vorresti farlo tu, eh? In realtà, no. E poi, mi sa chi te l'ha provato. Non andrai oltre! De pista! Salta e ruota, Charlie! Cosa? Dov'è che... mi trovo? Ci troviamo molto vicini all'ufficio di Rekka. Te l'avevo detto che sarebbe andata bene. Cosa sono queste? Barriere elettriche? Ma dai! Sapevo che sarebbe tornato utile. Sei pronto, c'hai? Pronto per cosa? Beckerby! Yeah! Wow! Come hai fatto? È solo uno spostamento temporaneo. È un po' complicato. È una funzione nascosta di 808. Potevi raggiungermi in qualsiasi momento? Non mi pareva che avessi bisogno di me. Non credo tu possa fare quel salto. Ma vedi quell'interruttore? Fammi indovinare. Già, chiamami e posso attivarlo io per te. Oh, sembri il tutorial di un videogioco. Ciao!